Signor White, John Yesterday è qui, l'incontro delle sei. Grazie, Lori. Complimenti al tuo stilista, bel vestito. L'ho scelto io, signor White. Ah, allora complimenti alle risorse umane per averti assunta. È stato lei stesso a farlo, signore. Ah, già, è vero. Fallo accomodare, per favore. Il signor White l'attende, signor Yesterday. Grazie. Vieni qui, John. Guarda che tramonto. Se nella prossima vita ti reincarnerai in un imprenditore pieno di soldi, non mancare di farti un ufficio con una vista così. È l'unica cosa che vale davvero la pena in tutta questa storia. Non ricordo neppure quello che ho fatto in questa vita, signor White. Henry! Chiamami Henry. Prima mi chiamavi così. Come sta tua madre? Ma, un po' raffreddata. Sembra una brava persona. Mi ha raccontato la mia vita, ma io non riesco a ricordare niente di lei. Assolutamente niente. Manda le mie saluti e permettimi di sfruttare l'occasione per approfittare di te. Cosa ti ha raccontato? Prima non parlavi mai di te stesso. Cosa ti ha raccontato tua madre della tua infanzia? Di tutto. Figlio unico, timido, pochi amici, obbediente, bravo sportivo. Magari riuscissi a ricordarlo. Cosa sai della tua gioventù? Mi sono tuffato nello studio. A quanto pare sono un tipo in gamba. Ho un master in storia delle religioni, per via di mia madre. Un'alluminare a livello mondiale in storia delle sette sataniche. La cosa peggiore è che non ricordo nulla di quanto ho imparato in tutti quegli anni di università. Eccetto quello che c'era sui libri che mi hai mandato in ospedale e quello che mi ha raccontato mia madre. Ragazze? Mia madre dice che ho avuto una fidanzata tempo fa, una certa Susanne. Ora sono single, a quanto pare. Cosa ti ha detto riguardo ai tuoi gusti? È strano. Mi ha detto che non mi è mai piaciuta l'uva. Ma l'altro giorno l'ho assaggiata e l'ho trovata deliziosa. Interessante. Fino a che punto i nostri gusti sono condizionati dai nostri ricordi? Per inciso, io l'adoro. Tutto regolare in ospedale? Sì, certo. Grazie per esserti occupato della fattura. Non sono stato io, ma i miei soldi. A volte si annoiano a fare la muffa in banca. Dimmi, John, sei riuscito a ricordare qualcosa del tuo passato da solo? No. Beh, a volte ho come dei piccoli flash sconnessi. Immagini, suoni. È già successo tre volte. Guardando un film, guardandomi la mano, vedendo un uccello blu. Curioso, vero? Dimmi di più. Cos'hai ricordato guardando quel film? Succedeva a Parigi. Improvvisamente vidi... Non so... Una specie di negozio di antiquariato. Una ragazza... Cosa ti è venuto in mente alla vista della tua mano? Beh, in realtà è stata la cicatrice della mia mano. Mi è apparsa in mente l'immagine di un tipo strano. Una specie di sacerdote in una chiesa. Parlava di uccidere qualcuno. Me. Cos'è successo quando hai visto quell'uccello blu? Si è posato sulla finestra, in ospedale. Improvvisamente ho visto me stesso, con la barba e i capelli lunghi, in una tormenta di neve. Ah, che sbadato. Non ti ho neanche offerto una sedia. Mi spiace tanto per quanto è successo, John. Davvero tanto. Non posso evitare di pensare che sia tutta colpa mia. Al contrario. Sono venuto per ringraziarti. E per avere delle risposte, immagino. Cosa vuoi sapere? Voglio sapere chi sono. Non sono Dio, John. Se vuoi risolvere questo mistero, entra in una chiesa e comincia a pregare. Io posso solo soddisfare dubbi più umani. Perché mi hai mandato in ospedale quei libri sulle sette sataniche? Per aiutare tua madre nella tua rieducazione. E in vista di un affare che tu e io avevamo tra le mani. E che continuiamo ad avere. Cosa mi unisce a te? Molto, John. Lavoravi per me quando hai cercato di suicidarti. Ti sei immerso nella ricerca. Estraniandoti dal mondo. A proposito, Lori ha il contratto. Se ti va, chiediglielo pure quando esci. E in che cosa consisteva la mia ricerca? Ti ho assunto perché raccogliesi informazioni sull'Ordine della Carne, una setta satanica del quindicesimo secolo, sperando che ci aiutasse a incastrare un assassino del momento. Io ero arrivato a un punto morto della mia ricerca. Cosa avevi scoperto prima di assumermi? L'Ordine della Carne fu fondato nel 1463 da un vecchio sacerdote chiamato Hines de Ordugna. E in che cosa consisteva l'Ordine della Carne? Ne sappiamo poco. Adoravano il diavolo e mischiavano alchimia e tortura, cercando solo Dio sa cosa. Finché l'Inquisizione iniziò a perseguitarli. L'Inquisizione riuscì a fermare l'Ordine della Carne? Nel 1498, quando sembrava che il cardinale Cisneros, sommo inquisitore, li avesse messi alle strette, scomparvero dalla circolazione, svaniti nel nulla. Nessuno sa come, né dove. E io cosa ho scoperto? Cominciasti consultando gli archivi dell'Università di Salamanca e trovasti qualcosa di insolito. Una missiva del Capitano della Guardia, Miguel de Somosierra, rivolta al cardinale Cisneros, scritta il 31 agosto 1501. Cosa diceva la lettera? Assicurava che quella stessa mattina il suo distaccamento si sarebbe diretto al Tempio in cui sospettavano che si riunisse l'Ordine, che irrupero in esso interrompendo un rituale demoniaco, che ne uccisero tutti i membri senza pietà, e che infine diedero fuoco alla Chiesa, riducendola in macerie e ceneri di cadaveri satanici. La lettera non diceva nient'altro? Sì. Il Capitano si rallegrava della pista che li aveva condotti al Tempio. Letteralmente, a buon'ora, Voscienza ha visto il rapporto tra l'Ordine della Carne e la Santissima Cattedrale di Nostra Signora di Parigi, che ci ha condotti a smascherare la malignità di una chiesa apparentemente pia. Che rapporto c'è tra Notre Dame e l'Ordine? Quello fu il successivo e ultimo passo della tua ricerca. Parigi. Cosa scoprì a Parigi? Lo ignoro. Scomparisti per quindici giorni. Quando alla fine ti facesti sentire, eri molto agitato. Mi dicesti che avevi trovato qualcosa di molto importante, e che non potevi parlarne per telefono. Perciò ti raggiunsi a Parigi. Perché non ti dissi cosa avevo scoperto? Perché quando arrivai al tuo hotel avevi tentato di suicidarti. Eri in agonia. Avevi ingerito del mercurio. Inoltre ti eri tagliato la mano, intagliando sulla tua pelle il simbolo dell'Ordine della Carne. Qualcosa di simile ad una Y. Come si sa che è stato un suicidio? Avevi lasciato una nota. Perdonami, Henry, ma per arrivare in fondo a questa storia, devo prima morire. Parlami di quell'assassino. Sono anni che uccide mendicanti. All'inizio gli dava solo fuoco, ma poi si è evoluto. Come si è evoluto l'assassino di mendicanti? Ha smesso di dar fuoco alle sue vittime, passando a torturarle con rituali satanici. Cosa ti ha portato a ricollegarla a quella setta? Da un certo momento in poi, marchiava con un coltello una specie di Y sul corpo di tutte le sue vittime, il simbolo dell'Ordine della Carne. Perché ti interessa tanto prenderlo? Per un periodo ho lavorato come volontario in una ONG chiamata I figli di Don Quixote. Ti dice qualcosa? Si occupa di aiutare i senza tetto. Dopo qualche anno ho smesso di lavorare per loro, perché c'è qualcosa che li può aiutare più di me. I miei soldi, che sostengono ognuna delle loro spese da quando morirono i miei genitori e dovetti farmi carico delle aziende White. Non permetterò che continuino a far loro del male, John, e tu mi aiuterai. Perché ingaggiasti me? Inizialmente assunsi tua madre, John, ma arrivò un momento in cui lei si trovò in una fase di stasi. Non sapeva come proseguire. Disse che se c'era qualcuno capace di andare oltre, quello eri tu. Beh, ora sai ogni cosa, John. Parla con Lori. Fatti dare i biglietti. Che biglietti? Ah, non te l'ho detto? Parti per Parigi oggi pomeriggio. Nessun problema, vero? Sì, Henry. Devo sapere chi sono. Ben detto, John. Tuo padre ne sarebbe orgoglioso.